Ciao a tutti ragazzi, oggi vi saluto così, anche con problemi, siamo ospiti dell'amico Francesco Ghiapetta e ci troviamo, come potete osservare, su una bellissima litorna. Questa uscita insieme al mio amico Francesco, diciamo l'abbiamo fondata per venire a cacciare il capriogo, ma siccome siamo fiduciosi, speriamo che esca, se non dovesse essere così, abbiamo disponibili anche delle froscette per fare il cinghiale, quindi vedremo cosa ci riserva la serata, a dopo ragazzi. Mentre siamo in attesa ragazzi, daremo un'occhiata alle distanze a cui spareremo con il nostro telemetro. Ora che abbiamo più o meno individuato i punti dove possono uscire i caprioli, abbiamo distanze che vanno dagli 80 metri fino ad arrivare ai 2.50, speriamo che la DEA ce la mandi fortunata questa sera. Ottivamente ragazzi, stiamo usando le mie note Fox Bullets, la grandissima ottica della Zerotec Drive HD 315x50 che mi ha concesso un'azienda C&C Antic, vi ringrazio veramente per avermi concesso tutto questo. Si è conclusa così la serata ragazzi, abbiamo abbattuto questo cinghiale di circa un anno, un anno e mezzo, grazie anche all'ospitalità di Francesco, e nulla, vi lascio alle immagini e ci vediamo. Allora, l'avete visto? L'avete visto questo bel animalotto che ha fatto Silvestro, contento e che vi dico? Mi raccomando ragazzi, sui social è il numero uno, Instagram Francesco Ghiapeta. Ciao ragazzi. Ti rendete conto, killer? Killer? Pure meno mato? Guarda qua. Guarda, non ce la fa. Lascia stare, lascia stare. Faccio, faccio. Guarda che combina, guarda. Figo io. Hai finito? Oh, meno mato. Ho finito, ho finito. Vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto? Eh, ma ci penso io. Ciao. Grazie.